Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Questo è Jamal Un devoto musulmano Non fa male a nessuno Non parla male di nessuno Tratta bene le persone Ed ha anche un buon carattere Fa le sue preghiere in tempi giusti Anche quelle non obbligatorie Fa anche digiuno, dà molta beneficenza E non è avaro Legge il Corano E impara e insegna la conoscenza Tramite lui molta gente Ha trovato la guida Tutta la gente parla molto bene di lui E delle sue qualità Gli angeli Le hanno scritto nel suo registro Tantissime buone opere Si presenta così Nel giorno del giudizio Domanda Dove va? Va all'inferno o a paradiso? La risposta è Che va all'inferno Siete stupiti vero? E vi dirò che anche gli angeli sono stupiti Tanto quanto voi Quindi Guarda il video fino alla fine Per capire il perché L'intenzione Niyah in arabo È la cosa più fondamentale Che ci sia nell'Islam Poiché nessuna opera È accettata Se non c'è L'intenzione sincera Verso Allah Subhanahu wa ta'ala Disse il messaggero Sallallahu alaihi wa sallam Allah non accetta alcuna azione Se non quelle azioni Sincere Con cui si ricerca Il messaggero di Allah Sallallahu alaihi wa sallam Disse Nel hadith Narrato da Umar bin al-Khattab Disse il messaggero Sallallahu alaihi wa sallam Questo hadith Mette in chiaro il concetto Che senza l'intenzione Nessuna opera o azione Ha valore per Allah Subhanahu wa ta'ala L'imam come al-Bukhari Oppure al-Nawawi Nelle loro raccolte Di hadith Hanno piazzato Questo detto Il detto del profeta Sallallahu alaihi wa sallam Delle azioni Che valgono Secondo le intenzioni Come il primo Questo dovrebbe farci riflettere Su quanto sia importante Questo hadith Se questi sapienti Hanno deciso di metterlo Come primo Della raccolta Il problema quindi Che aveva Jamal Ritornando al video Dell'introduzione È l'intenzione Che non era sincera Verso Allah Subhanahu wa ta'ala Bensì Egli compiva Le buone opere Per ricevere Le lodi E gli apprezzamenti Della gente Guardiamo un altro esempio Jamal Sta facendo la preghiera Sentendo però Che stanno entrando Delle persone Decide di prolungare Il tempo Nella preghiera Affinché vedano Quanto lui è devoto Jamal Sta commettendo Il politeismo minore Dice Allah Subhanahu wa ta'ala Eppure Non ricevetterò Altro comando Che di adorare Allah Tributandogli Un culto Esclusivo E sincero Di eseguire L'orazione E di versare La decima Questa È la religione Della verità Il profeta Narra Che Allah Gloria Lui L'Altissimo Disse Subhanallah Questo hadith Ogni volta che Si sente Vengono i brividi Ma il prossimo Che andremo a vedere E forse ancora più forte Infatti Perché venne chiesto Da Abi Huraira Radiallahu anhu Di raccontare Un hadith Sentito dal messaggero Di Allah Sallallahu alaihi wa sallam Abi Huraira Appena stava Per raccontare Il hadith Svenne E hanno dovuto Reggerlo Per non cadere Abi Huraira Quando si riprese Riprovò di nuovo A pronunciarlo Ma svenne Nuovamente Ancora una volta Dopo che si è Che si è risvegliato Ha provato A pronunciarlo Ma svenne nuovamente Soltanto Dopo la terza volta Riuscì a raccontarlo Guardate quanto I sahaba Erano coinvolti Nelle parole Del messaggero Di Allah Sallallahu alaihi wa sallam Quindi se non ce l'ha fatta Abi Huraira Radiallahu anhu Pensate Noi Ma noi lo raccontiamo Per dovere Di trasmettere L'informazione Il hadith Racconta Nel giorno del giudizio Nel giorno del giudizio Subhanahu wa ta'ala Inizia con tre persone Nella ummah musulmana A cui chiede racconto Chiede racconto Al lettore del corano Uno che combatteva Sulla via di Allah E uno che donava Dei suoi beni Verrà chiesto al primo Cos'hai fatto nella vita Risponderà Oh mio signore Ho letto il corano Nelle ore della notte E nelle ore del giorno E l'ho fatto per te Oh mio signore Alla risponde Falso Hai letto il corano Affinché dicessero lettore Ed è stato detto Al secondo Cos'hai fatto nella vita Oh mio signore Ho combattuto sulla tua via Finché non sono stato abbattuto Falso Hai combattuto affinché Dicessero Coraggioso Ed è stato detto Al terzo Cos'hai fatto nella vita Oh mio signore Ho donato quello che avevo Per te Falso Hai donato affinché Dicessero generoso Ed è stato detto E disse il messaggero Di Allah Sallallahu alaihi wa sallam Ad Abi Huraira Che questi tre Sono i primi Ad essere combustibili Per l'inferno L'intenzione Va rinnovata sempre Perché con il passare del tempo Ce ne dimentichiamo Ad ogni azione Dobbiamo tenere presente L'intenzione Altrimenti la preghiera Le adorazioni Diventerò una mera abitudine Una routine Soprattutto ora Che si avvicina Il mese di Ramadan Se non teniamo presente L'intenzione Con cui lo affrontiamo Rischiamo che alla fine Rischiamo che alla fine del mese Abbiamo soltanto accumulato Fame e sete Senza alcun beneficio spirituale E sarebbe una grandissima sconfitta Una grandissima perdita Noi siamo ricompensati Per evitare di cadere nel haram Ma se non lo facciamo Ma se non lo facciamo per Allah E non ne teniamo conto Non abbiamo alcuna ricompensa E per le cose Mubah Che sono la maggior parte Delle cose Della nostra vita Tipo mangiare Dormire Camminare Se noi lo facciamo Con l'intenzione Di diventare più forti Per l'adorazione Siamo ricompensati Uno dei consigli Dei più predecessori È Nascondi la buona opera Che fai Così come nascondi Quella cattiva Loro erano soliti Fare tantissime cose Senza farlo sapere a nessuno Disse il profeta Sallallahu alaihi wa sallam O mu'ad Sii sincero Nelle tue opere E te ne basteranno poche Infatti L'obiettivo Non è quello Di fare tanto Se poi questo tanto Non è di qualità Ricordiamo Che Allah Ama Le buone azioni Che vengono fatte In continuazione Fossero anche poche Narra al Bukhari Che Yazid Aveva lasciato Delle monete In elemosina Ad un uomo Che era in moschea Affinché le desse A qualcuno Che ne aveva bisogno Suo figlio Ma Le prese E andò Le prese dall'uomo E andò Da suo padre Yazid Il quale gli disse Per Allah Non volevo Che queste monete Finissero a te E presero entrambe A disputare Finché non sono giunti Davanti al messaggero Di Allah Sallallahu alaihi wa sallam Il quale Disse Avrai Quello di cui Hai avuto Intenzione O Yazid Ed è tuo Ciò che hai preso O Ma'an La kamana Wa'etaya Yazid Wa'alaka Mahataya Ma'an Se noi Abbiamo l'intenzione Di fare un'opera buona Ma per un impedimento Non riusciamo a farla Allora Gloria a lui L'Altissimo Ci darà ugualmente Ricompensa Come se l'avessimo Fatta A patto che L'intenzione Sia sincera Quante persone Oggi Fanno tante Grandi opere Cui però Manca l'intenzione Sincera Verso Alla Sallallahu alaihi wa sallam Un uomo A Mecca Era solito Nutrire i poveri Onorare gli ospiti E accoglieva Con cibo e acqua I pellegrini Della sacra moschea A A Isha Radiyallahu anha Chiese al messaggero Di Allah Circa quest'uomo Rispose il messaggero In verità Egli Non disse mai O Allah Perdone il mio peccato Nel giorno del giudizio Infine ricordiamoci Che l'intenzione È una cosa Privata e segreta Tra l'essere umano E il Signore L'Altissimo Che nemmeno gli angeli Conoscono Un hadith racconta Che nel giorno del giudizio Verranno persone I cui registri Sono pieni di opere Di bene E gli angeli Che li hanno scritte Lodano queste persone Gli angeli Hanno scritto Queste opere Pensando che fossero fatte Per Allah Subhanahu wa ta'ala Allora Allah interviene Gloria E lui è l'Altissimo E lui è molto più sapiente Dei suoi angeli Dicendo agli uomini Con questo Tu hai voluto Questo e quest'altro E tu con questo Hai voluto questo E quest'altro E gli angeli Allora si stupiscono E dicono Che tu sei allontanato È per altri All'infuori di Allah Che operavi È per altri All'infuori Di Allah Che operavi Per cui I cari fratelli Cari sorelle Ad ogni azione Che stiamo per fare Ricordiamoci Dal hadith Innamal amalu bin niyat Alle azioni valgono Secondo le intenzioni Il nosso Il nostro Grazie.